è da molto che sei sposata margherita ma noi non siamo sposati e quel nuovo allora ma per adesso viviamo insieme poi si vedrà ma di che si occupa ma scherzi quello è il salvatore di donato ci sono o a perindale sanità e di sposo beh questo non ha importanza quello che conta è che ci amiamo e allora ti occupi ancora di prezioni eh sì, quello che faceva il mio povero papà compra e vendo ma tu che fai? canti ancora? come non canto e adesso riesci pure la vostra amica è diventata una grande attrice ti ha pure un rompe d'arte ah sì, Tina Moreno bello la settimana prossima mai iniziene un nuovo lavoro perché non sono venite a vedere? volentieri eh brava, fermano abbandonate quelli ah, è interessante una grande asseneggiana venite venite ben salvatore, eccoci a voi come il papà se dico quando mamma te l'ha fatto hai capito? quando mamma te l'ha fatto ben salva? buon salvatore, eccoci a voi ben salvatore, eccoci a voi ben salvatore non salvatore, eccoci a voi